Da più di un mese che c'è una fogna a cielo aperto, lei ha un'attività commerciale, il bar ha fatto sollecito al comune, sono arrivato a sistemare, però il problema è rimasto per un semplice pezzo di tubo che non hanno collegato. Quindi però sentiamo un cattivo odore di fogna, lei ha un'attività commerciale e la gente che si siede lì non è... No, devo stare con le porte chiuse, poi ti imbratti i piedi e ti li porti in casa. E nessuno interviene? No, niente, nessuno. E qual è l'appello suo che fa? È di prendere provvedimenti, se no che facciamo una denuncia, a chi dobbiamo denunciare? Lei ci ha chiamato perché giustamente dice non so come risolvere... Sì, posso risolvere, di fatto ci ho pubblicato anche su Facebook, non si è visto niente. Qua siamo al centro storico di... Di Lamezia Terra. Oltre a questi problemi qui Lamezia... Ce ne sono qui alla piazzetta per quanto riguarda ragazze, attivandali, cicasini, questi ci sono, però non interviene mai nessuno. Si può dire che è una città abbandonata? Sì, sì, pienamente abbandonata. Dice, dove c'è lo scarico della fogna c'è una buca che la gente ci cade e nessuno la vuole riempire ad aggiustarla. Come qua. Qua. E poi, ma come ha detto lei, un metro di tubo... Manca un pezzo di raccordo per riunirla nella fogna centrale. E in molti servizi dici che si deve intervenire nel condominio. Anche perché qua è un condominio di più abitazioni, giusto? Sì, sì, però a loro il problema non ce l'hanno perché la cacca non gli sale sopra. Invece a noi ce l'assorbiamo noi. A me mi si è rotta una volta e l'ho aggiustata io a spese mie perché...